Una buona serata, ben ritrovati a tutto Ponente, una trasmissione che ci porta non sul mare, questa volta ma sulle montagne alla ricerca di un po' di fresco se vogliamo, ma anche e soprattutto alla ricerca e alla riscoperta delle antiche tradizioni che sono racchiuse, raccontate da una chiesetta che è risorta grazie all'amore di tanti liguri e tanti piemontesi, non tantissimi per la verità ma qualche d'uno per fortuna c'è stato, mi riferisco alla chiesetta di Santerim nella cosiddetta Valle dei Maestri, perché negli anni, nei secoli passati in questa zona c'erano i pastori e la chiesetta diventava anche un punto di riferimento per insegnare ai figli dei pastori, fare scuola ai figli dei pastori, quindi ecco qui come nasce la Valle dei Maestri. E' la chiesetta di Santerim, rinata, riscoperta grazie alla passione, all'amore di liguri e piemontesi, qualche d'uno di loro è qui con noi in studio, li andiamo subito a salutare e ringraziare per essere qui con noi. Buona serata e un saluto a Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea, benvenuto, ben ritrovato, a Luciano Frassoni, che tra l'altro è stato autore del libro dedicato alla Cappella delle Alpi, quindi proprio alla chiesa di Santerim, benvenuto e grazie Frassoni per essere con noi, e ancora Valerio Giordano della protezione civile di San Bartolomeo di Sanremo, che ormai storicamente contribuisce all'evento di Santerim, benvenuto Valerio. La regia stava inquadrando prima una rappresentazione in scala della chiesetta di Santerim, o dovrei dire per meglio di come si sogna che potrà essere, speriamo in un immediato futuro, in un breve tempo, la chiesetta di Santerim. Perché adesso è stata ristrutturata, ma ci sono ancora delle cose che vogliono essere fatte, compresa questa recinzione che vedete, un bellissimo lavoro fatto a mano da Matteo Ravera, che è uno degli amici, dei tanti amici di Santerim. Ma andiamo con ordine, perché Santerim torna, si ripropone come appuntamento il prossimo 25 agosto. E allora cominciamo da Giorgio Ferraris per dire intanto che ci siamo, siamo di nuovo qui, Santerim non si dimentica. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto riproporre, mantenendo la data ormai tradizionale dell'ultimo sabato di agosto, questa festa che da un po' di anni, così organizziamo come associazione culturale, con il supporto di tutti gli amici che ci hanno aiutato in questa importante operazione di ricostruzione della cappella di Santerim. L'idea era nata dall'associazione della Vastera, questa cappella è un po' il simbolo di questa terra brigasca, che era una terra di pastori, che oggi è divisa da confini regionali e nazionali, ma che in realtà ha un'identità ben precisa, con una sua lingua, con le sue tradizioni, con la sua cultura. E quelli che si sono proposti, così dico in questo senso, Imperia TV ci ha dato anche una grossa mano a farlo conoscere, per la ricostruzione della cappella hanno voluto proprio mantenere questo simbolo, di questa attività pastorale che per secoli si è svolta su queste montagne. L'appuntamento vogliamo mantenerlo con questa festa, sempre uguale, semplice, così dico, abbiamo organizzato anche quest'anno la partenza, non potremo farla da monesi per le condizioni che conosciamo, di viabilità che non sono ancora ripristinate, ci auguriamo che lo siano a breve. La partenza per chi vuole andare a piedi sarà verso le 8 da Carnino, poi comunque ognuno è libero di salire, così dico il sentiero è ben segnalato e si arriva direttamente nella Valle dei Maestri dove c'è la chiesetta. e verso le 8 e mezza la partenza è da Upega per collegarsi poi alla strada che arriva al Colle dei Signori. Lassù avremo la possibilità intanto di ritrovarci assieme tutti coloro così dico che credono e che hanno avuto fiducia in questa iniziativa e che vogliono incentivarla perché i progetti non sono finiti qui, si pensa ancora a qualcosa di migliorativo per quest'area, per questo territorio, poi alle 11 ci sarà la Santa Messa come sempre e dopo la Santa Messa ci sarà la possibilità insieme di fare pranzo, chi vorrà organizzarsi in proprio può farlo, però ci sarà la possibilità con i gestori del rifugio Don Barbera di avere la polenta più alcune cosette insieme da mangiare prima e da mangiare dopo al prezzo di 10 euro, quindi una cosa decisamente diciamo anche economica da questo punto di vista per finire la giornata che poi normalmente termina con un po' di musica, un po' di canti autogestiti, non ci sono spettacoli particolari organizzati ma che in fondo sono le cose più belle e sono quelle più in linea con lo spirito di quella festa ma soprattutto con quello che si è voluto ricordare con la ricostruzione di questa chiesetta. Insomma la montagna che unisce e non divide, come spesso si è detto. Certamente, anzi questo è proprio il simbolo, il simbolo di una terra che in passato è anche stata unita anche dal punto di vista dei confini, oggi è divisa, ci sono voluti un po' di anni per rimettere anche insieme un po' di pezzi perché comunque non è stato così semplice ma la cultura, la lingua, la tradizione si è conservata, merito di tutti quelli che hanno lavorato in questa direzione e la Cappella delle Alpi su cui Luciano Frassoni ha scritto peraltro un bel libro, ce ne sono ancora alcune copie disponibili che saranno poche copie che comunque le porteremo quel giorno per chi fosse interessato racconta un po' questa vicenda e anche da dove è nata, come si è realizzata questa ricostruzione perché oggi sono tempi in cui è difficile per le comunità locali riuscire a mantenere le tradizioni e le chiese anche del passato, riuscire a ricostruirne una che era crollata, penso che sia proprio un miracolo. Frassoni, un miracolo anche perché è difficile ricostruire le chiese nei centri storici, nei borghi, figuriamoci andare a ricostruire una chiesa che era quasi completamente a pezzi, restavano giusto le mura che la circondavano ma non era certo come la vediamo oggi e come la vediamo anche in questa bellissima miniatura di Matteo Ravera, ricostruire in cima una montagna è stata un'impresa per certi versi eroica, che non è finita, giusto? Non è finita, non è finita nel senso che vedete tutte quelle panche che sono lì in giro, attualmente sono dentro la chiesetta, se uno apre la porta non vede neanche l'altare. Allora, siccome a 50 metri c'è un jazz, era una vecchia abitazione dei pastori mezza crollata, che praticamente ci sono questi muri, non so se si vedono. Ci sono poche mura, diciamo. E questo è l'interno, completamente invaso dall'erba, che ricorda le condizioni della chiesetta di Sant'Erim, la prima volta che si è salita. Noi vorremmo togliere tutte queste panche, creare al posto del jazz di una volta, creare un magazzino, abbiamo preso le misure con l'amico Gallo, e vorremmo mantenere, diciamo, il vecchio muro che è circa un metro, 90 centimetri, lo vorremmo mantenere. Poi ricostruire questa parte alta in pietra e mettere dei mattoni di cemento che sono portanti e creare una capriata nel mezzo, nel mezzo, perché ha una dimensione abbastanza grande, è 8,50, non so se si vede, comunque, è 8,50 per 5,10 la superficie. Quindi verrebbe un bel magazzino che alleggerirebbe, diciamo, la chiesetta dal... Sì, due metri di altezza, perché non vogliamo, in modo che poi all'esterno verrebbe praticamente 1,90, si vedrebbe, verrebbe, il vecchio jazz era all'incirca questa altezza qui, abbiamo un esempio di un jazz del 1929, che adesso non ce l'ho qua, comunque, aveva, quell'altezza lì aveva circa 1,90. Sì, diciamo, di mantenere un po' quella che era la storia del passato, quindi di non rovinare, giustamente, anche l'ambiente, guai al cielo, che è un ambiente incontaminato, ristrutturare, lasciare le testimonianze del passato e avere, allo stesso modo, l'occasione, così, di avere un angolo dove posizionare le panche, i materiali, perché la chiesa sia veramente chiesa a tutti gli effetti, ecco, questo un po' mi fa ricapire lo spirito. Noi, adesso, una settimana prima, con gli amici Gallo, Borgna e... E sono qui, tra l'altro, nei nostri studi, chiaramente, Gallo, Borgna, Maria, tutta una parte della squadra di Sant'Evo, perché tutti non basterebbero gli studi di Imperativo, forse a contenerli, ma c'è una bella squadra che è sempre al lavoro, diciamo, gli elementi più forti, le colonne portanti, vogliamo finire così. Certo, so che il parco ha ricostruito la strada che aveva chiusa, me l'ha detto il sindaco Alberti, pochi giorni fa, quindi le persone che non potranno camminare o saranno stanche potranno arrivare fino dalla chiesetta, poi le macchine saranno portate giù a due o trecento metri, perché non vogliamo che ci siano delle macchine davanti alla chiesa, deve essere una cosa spirituale e poi l'allegria, ci sono le macchine che ricordano la città di inquinamento. È normale, poi per chi è possibile, naturalmente, la soluzione migliore è quella di partire da Carnino, fare una bellissima passeggiata immersi nella natura, adeverarsi alla fonte che si trova... I giovani di 70-80 anni, io ne ho 90 e da ora in poi vado col fuoristrada. E beh, insomma, per carità, guadagnato da quel punto di vista. Però, ecco, vedete, le immagini che ci propone la regia sono di questo sentiero che si snoda da Carnino fino su alla Valle dei Maestri ed è comunque un sentiero, un paesaggio bellissimo, veramente incantevole, che vale la pena per chi ha la possibilità, ecco, seguire questo tracciato piuttosto che andare in macchina o in moto che, insomma, sono necessari e importanti per certi versi, per altri versi sicuramente una passeggiata è più godibile. Allora, il 25 comunque sarete di nuovo... Sabato. Sabato 25 agosto sarete di nuovo su a Santerim. Beh, comincia di lì, diciamo, la prosecuzione dei lavori. Certo. Lancerete un appello in qualche modo. Sì, adesso lancieremo un appello. Francesco... Ci sono, ci sono. Eh, Francesco, l'appello ti pare il tempo. Il nostro editore, Francesco Zorino, sicuramente, beh, sarà sempre vicino a Santerim. Sempre brillante nelle presentazioni e nel farci avere i contributi tramite via aerea, via TV. Ebbè, è un sostegno che va avanti. Volevo ricordare che al Valle dei Maestri, due mesi fa, eh, due mesi fa, Cristian Rizzo di Viozene, Mirko Danà di Imperia, hanno, da Viozene sono andati a Carnino, da Carnino sono andati a Valle dei Maestri, Marguareis, rifugio Don Barbera, Marguareis. Il ritorno l'hanno fatto su un canalone, tre chilometri, con gli sci. Due mesi fa, il 26 di maggio, adesso dovremmo vedere poi tutto il filmato, uno di questi giorni. Pensare alla neve, in questi giorni diventa ancora difficile, ma... È stata una gita meravigliosa. Hanno incontrato circa 100 camoci, di cui uno quasi tutto bianco. Bellissimo. Aveva la schiena marron e un camocio bianco che gli ha attraversato la strada mentre scendevano giù con gli sci. E queste sono le cose meravigliose che si trovano dalle nostre parti e che meritano sempre di essere viste. Poi, nel caso tra quello che sono stati citati, che è qui presente con noi in studio, nel caso si possa essere, per dire, accompagnati da un esperto come Gian Piero Bonia, diventa ancora più facile e più bello scoprire il territorio perché ti trascina veramente, ti coinvolge assolutamente, lì vedi la passione e l'amore per questi luoghi. Una passione e l'amore che ha anche Valerio Giordano, che è Presidente Merito della Protezione Civile di San Bartolomeo di Sanremo. Tu, Valerio, ormai sei fra gli immancabili di Santerim. Supporto logistico uguale Valerio, è vero? È vero. Dal 2005, che Luciano ci ha anche citato qua nel suo libro, lo ringrazio, e dal 2005 chiediamo, e quest'anno guardiamo, il Presidente mi ha promesso che avremo qualche macchina in più e un po' di attrezzatura potremo mettere a disposizione. Quindi sarà importante anche questo perché comunque ricordiamoci che siamo in mezzo a una montagna, cioè per esempio se si vuole avere l'impianto audio bisogna avere la luce, quindi ci vuole il gruppo elettrogeno. Voglio dire, Valerio. Quindi ti dico come abbiamo fatto l'anno scorso qua con Imperia TV, che abbiamo portato su quest'anno, per quello abbiamo aumentato anche i mezzi, quindi metteremo il nostro camion logistico a disposizione di Imperia TV. E non è che ringraziamo. E una macchina di supporto, quindi anche se ci fosse poi bisogno, poi ci metteremo d'accordo con la direzione. Non è un problema, la cosa importante è per sapere che voi ci sarete. Poi con te è una vita che ci conosciamo. Ebbene, quello... Quante battaglie abbiamo fatto insieme... Indubbiamente, indubbiamente. Quindi anch'io... Sono arrivati con gli sci... Direi, direi... Ecco Frassoni ci sta facendo vedere che fino in quel punto lì sono arrivati con gli sci a maggio. Lì c'era un mezzo metro, su un metro e mezzo, due mesi fa, il 26 di maggio. E ti dirò di più, allora, io 15 giorni fa, dal cole lì, dai balconi di Marta, si vedeva tutto un nevaio che scendeva dal cole del Pa. Sì, sì. Quindi io invito la gente che venga su, perché io parlo, ma c'è tanti che non lo conoscono ancora, è questo... questo bel... questo paradiso, diciamo. Perché vedi un po' la nostra particolarità, una caratteristica anche curiosa, se vogliamo, Valerio. Noi siamo gente di mare, perché abitiamo in città costiere, ma al tempo stesso tanti di noi hanno un po' il cuore al mare e un po' il cuore in montagna, perché la favola di questo territorio è proprio questa qui. Cioè partire dal mare e arrivare fino a queste montagne incontaminate, bellissime, che nessuno si offenda, io dico sempre, non credo abbiano niente a invidiare al Trentino, alla Valtellina, a questi posti, cioè basta vederle, sono lì. Ti dirò di più, io sono passato di qua, che è la prima volta che sono salito per lì, proprio per la Valle dei Maestri, partendo da Carnino, avevo 12 anni. Qualche giorno fa, vi è stato. Qualche giorno fa, salendo proprio per questi sentieri qua, che sono bellissimi, e ti dico, qui si arriva a Pianciuccheo, eccetera, eccetera. E ormai riconosci come le tue tassi, è vero. No, no, quindi noi, ti dico, quest'anno spero di portare su una bella... di incentivare le persone, speriamo di essere utili anche attraverso questa trasmissione, proprio perché l'obiettivo è quello. Perché per andare a concludere, Sindaco Ferraris, quello che stavo dicendo, cioè il fatto di avere questa montagna che è lì, a due passi dal mare, come del resto per voi vicinissimo Piemonte, avere le nostre... il vostro mare, perché alla fine il Mar Ligone è il vostro mare, prima di tutto, oltre che nostro, chiaramente, è un qualcosa di particolarissimo, è un qualcosa di cui dobbiamo ancora parlare, perché per paradosso forse non l'abbiamo capito fino in fondo. Ma io direi che è qualcosa di unico, non so se ci sono altri posti al mondo dove, non soltanto dal punto di vista delle distanze e della geografia, noi a volte siamo abituati un po' a considerare distante cose che per altri sono vicinissime, a Ormea ci sono alcuni tedeschi che hanno comprato la casa, e ai loro amici in Germania dicono che hanno la casa al mare, ma anche dal punto di vista culturale, questo intreccio fra montagna e mare così vicini offre, oltre che uno spettacolo paesaggistico e ambientale, ma anche un intreccio di cultura, di tradizioni, penso alla gastronomia, alla letteratura, che penso sia unica al mondo, e che può essere proprio il punto di forza, soprattutto per noi che siamo dietro, perché chi è sulla costa bene o mare, la costa in certi periodi dell'anno il suo fascino ce l'ha, scoprire quello che c'è dietro è una cosa che a volte ha bisogno di uno sforzo in più, tutti insieme cerchiamo di lavorare in questa direzione. Ma credo che sia saggio quello che lei ha detto, perché il discorso delle distanze è molto relativo, perché noi siamo abituati a vivere, abbiamo io dico anche la fortuna, di vivere in un territorio molto concentrato, dove è ben difficile che si facciano grandissimi spostamenti, per esempio per andare a lavorare. Pensiamo a chi vive ad esempio in una Milano, che tutte le mattine farsi 70, 80, anche 100 km per andare a lavorare è una cosa normale, se ragioniamo con quel parametro capiamo che veramente noi siamo vicini di casa, è giusto dire che chi ormai ha la casa al mare, non c'è nulla di strano. E spesso il tempo che impiega una Milano per andare a lavorare è il tempo che qui in questo territorio si può impiegare dal mare a arrivare a delle montagne bellissime. Verissimo, verissimo. Allora a questo punto, prego Frassoni. Sono candidate al patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Dell'UNESCO, bravissimo. Questo è da ricordare, bravo, bravo Frassoni. Come Alpi del Mediterraneo. Alpi del mare. Del Mediterraneo. Ma del Mediterraneo. Hanno dovuto cambiare, perché il mare poteva essere soggetto a interpretazioni diverse. Invece il Mediterraneo è solo più. Il Mediterraneo è solo più. Liguri e Marittime. Bravissimo. Questi posti sono... Frassoni è sempre puntuale, preciso. Il più anziano è sempre quello che ci guida e ci tiene d'occhio sempre in modo molto fermo. Bravo Frassoni perché è importantissimo ricordare questo, che il Parco sta lavorando proprio per la candidatura a patrimonio dell'UNESCO della meraviglia che la nostra regia ci sta proponendo ora. Quindi speriamo che veramente, altro che candidatura, dovrebbe essere, io direi, un voto d'ufficio come patrimonio dell'UNESCO. Comunque speriamo che questa cosa arrivi veramente in porto perché se lo merita il territorio. 25 di agosto, sabato, Santerim. Di nuovo un appuntamento da non perdere. Da non perdere per noi stessi, per il piacere della riscoperta di questi luoghi, delle passeggiate, del territorio incontaminato. Da non perdere per l'amore verso questa chiesetta e quello che ancora si potrà fare attorno ad essa e per essa per mantenere la cultura, la storia di un luogo che per certi versi ha una sua sacralità al di là della presenza della chiesa, ma per la storia che racchiude, per la storia di uomini, per i sacrifici, per i dolori anche che fra queste montagne si sono patiti per poter sfamare i propri cari. Perché oggi è tutto diverso. Oggi il mondo corre in una velocità forse fine esagerata. I tempi di Santerim, della chiesetta di Santerim sono tempi completamente diversi e ogni tanto sarebbe meglio rallentare per ragionare su quelle epoche, ragionare su quei sacrifici e guardare magari in modo diverso il mondo e i problemi d'oggi. Grazie ancora a Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea, Luciano Frassoni, ricordiamo fra l'altro autore del libro La Cappella delle Alpi, ovviamente dedicato a Santerim. Un grazie anche se non è qui a Matteo Ravera per aver fatto questo splendido modellino a mano della chiesa di Santerim. E un grazie a Valerio Giordano, presidente venito della protezione civile San Bartolomeo di Sanremo. Noi ci rivedremo penso presto e costantemente, Valerio. Ma grazie per essere stato qui con noi a testimoniare anche tu la tua parte di amore per Santerim. Grazie a tutti voi, grazie al pubblico, vi aspettiamo sabato 25 agosto a Santerim, Valle dei Maestri. Arrivederci. Grazie a tutti.